Benvenuti a Creazione nel ventunesimo secolo. Sono il vostro conduttore, Carl Bo, fondatore e direttore del Creation Evidence Museum di Glen Rose nel Texas. La puntata precedente aveva come titolo Mettere le cose in chiaro. Ma ci sono così tante aree in cui dobbiamo mettere le cose in chiaro che è necessario fare una seconda parte, perché voglio parlarvi di alcune ulteriori aree in cui le cose devono essere messe in chiaro. Nella prima puntata, nel caso in cui non l'abbiate vista, ho parlato del mettere in chiaro le cose sul fatto che i Giudei, per lunghi periodi della storia, hanno avuto il controllo della città di Davide. Essi sono stati lì realmente. È ridicolo affermare che essi non siano stati lì e che non abbiano avuto il pieno controllo della città in quel periodo di tempo. Poi abbiamo messo le cose in chiaro perché la decima legione romana, dopo aver distrutto Gerusalemme, nel 70 d.C., in seguito subì una tale sconfitta che voleva cancellare completamente ogni traccia della sua presenza in quel luogo. Tuttavia ci sono degli indizi riportati alla luce dell'archeologia, inclusa una piccola pietra per una fionda che io tengo conservata in un posto sicuro con il marchio dello scorpione, proprio della decima legione romana. Essi sono realmente stati lì. È nella scoperta della grande piscina di Siloe, la piscina cerimoniale in cui migliaia, contemporaneamente nel giro di alcune ore, centinaia di migliaia di persone nel periodo della Pasqua si preparavano seguendo un cerimoniale per salire a adorare nel Tempio. e come simbolo di ciò io conservo un bellissimo anello coniato con una scheggia piccolissima di cristallo romano che è stato ritrovato nella piscina di Siloe. Questa è una prova per noi che la piscina si trovava realmente lì. I teologi liberali e gli studiosi liberali hanno schermito l'idea che la piscina sia esistita perché non era stata ritrovata nella città di Davide. Ma in realtà era stata ricoperta da quello che poi divenne un parco, un'area interamente inondata dai rifiuti e le macerie della distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C. poiché essa si trovava in un punto basso della città e fu quasi interamente ricoperta e io ho partecipato personalmente a questi scavi dirigendo alcuni del mio team. Quindi abbiamo messo le cose in chiaro. Poi uno dei momenti più emozionanti della precedente puntata sul mettere le cose in chiaro è stato quando ho introdotto questa spada che mi è stata data dal mio amico Rodney Sullivan e l'ho apprezzato davvero tanto. Questa è la cosa che per me ha più valore per il fatto che nel corso della storia del cristianesimo ci sono stati dei movimenti non ne menzionerò nessuno per paura di dimenticarne qualcuno dei movimenti che hanno raffigurato una Bibbia aperta e questa che naturalmente raffigura la Bibbia e la spada non dobbiamo identificarla con uno spargimento di sangue perché questo non è essenzialmente quello che Gesù ci ha insegnato e gli disse io non sono venuto a combattere con la spada il mio regno non è di questo mondo quindi nel regno di Dio c'è un nuovo potere che non deriva dallo spargimento di sangue ma sulla corazza dell'armatura di questo guerriero raffigurato c'è un opterodattilo e questo ha un valore simbolico non solo l'opterodattilo ma anche il leviatano dopo l'ultima puntata mi è stata fatta una domanda come è possibile che una creatura biologica viva possa sputare del fuoco del fuoco vero come può essere? si tratta di un rettile che viene descritto nella letteratura dell'antichità e viene anche descritto mentre perse la vita ai tempi di San Giorgio ossia quel Giorgio che da soldato romano divenne poi un predicatore del Vangelo e un incredibile uomo di Dio l'imperatore lo fece uccidere e la moglie dell'imperatore si convertì a Cristo grazie alla fede di quest'uomo ma veniamo a noi egli uccise un drago un drago sputafuoco un leviatano com'è possibile una cosa simile? beh voglio rispondervi nel libro di Giobbe al capitolo 40 abbiamo il grande behemoth il grande dinosauro dall'enorme coda e stazza un sauropode probabilmente ma che comprendeva anche gli altri dinosauri questo in Giobbe 40 ma in Giobbe 41 invece abbiamo quella che i liberali hanno definito una creatura mitologica la quale è una creatura chiamata leviatano ma ora qui è scritto che questo leviatano sputa del fuoco e se la Bibbia è corretta e veritiera esso doveva sputare fuoco ebbene poteva sputare fuoco se leggiamo quel contesto più da vicino troveremo alcune condizioni numero uno una stanza ermetica all'interno della struttura del suo corpo cioè i suoi scudi non si possono separare non li si può penetrare ok quindi in alcune cavità del suo corpo c'era un ambiente ermetico senza ossigeno poi scopriamo da quanto dice la descrizione dalla sua bocca escono vampate sprizzano scintille di fuoco l'apertura della bocca indica una disponibilità di ossigeno quindi abbiamo una stanza ermetica con assenza di ossigeno e la disponibilità di ossigeno e poi abbiamo il contesto in cui esso starnutisce generando un attrito che nei corpi di molte creature genera un'elettricità statica infatti nel vostro corpo se fate essenzialmente la stessa cosa strofinando una suola di cuoio su un tappeto e poi vi avvicinate a un vostro amico l'elettricità statica che avete generato può essere realmente trasmessa e se toccate il vostro amico potete realmente generare una scintilla con il suo corpo si può anche creare dell'elettricità statica positiva e negativa quindi questa creatura ha generato dell'elettricità statica allora abbiamo dunque una stanza con assenza di ossigeno abbiamo la disponibilità dell'ossigeno abbiamo l'elettricità statica e oltre a questo abbiamo un contesto in cui questa creatura all'interno del proprio corpo aveva degli elementi chimici che non solo bruciavano molto velocemente ma che potevano sopportare la combustione se leggiamo il testo troveremo la prova che il fosforo in certe condizioni può effettivamente bruciare a temperatura ambiente e abbiamo lo zolfo perché quando si tuffa nel mare odora di unguento la base per la maggior parte degli unguenti dell'antichità era lo zolfo esso ha alcune proprietà curative quindi abbiamo tutti questi elementi e a proposito questi sono gli elementi e i parametri per ottenere un fiammifero abbiamo la disponibilità di ossigeno nell'atmosfera abbiamo l'elettricità statica che viene generata dall'attrito abbiamo lo zolfo e il fosforo quindi teoricamente è del tutto possibile infatti è impossibile non generare una qualche sorta di fumi se abbiamo tutti questi elementi ma c'è di più di questo al Creation Evidence Museum quando abbiamo ottenuto la nostra struttura fissa con i relativi sistemi di sicurezza avevamo due piccole creature il Coleotero Brachinus e il Peropsofus non vi lasciate atterrire da questi nomi sono dei piccoli insetti il Coleotero Brachinus è una piccola creatura che ha all'interno del suo corpo una camera nella quale l'idrochinone e il perossido di idrogeno sono in uno stato di attesa ma quando vengono mescolati esplodono a 100 gradi centigradi formando letteralmente un soffio di fumo e a volte un fuoco visibile questa piccola creatura espelle con un getto quel composto una volta che lo ha posto in essere con un inibitore è pronta e attende semplicemente che una rana si avvicini o che un essere umano si avvicini a quel punto lo scarica fuori a una velocità di 2000 pulsazioni al secondo beh sì avete sentito bene lo potete trovare nei libri tecnici espelle quel materiale alla velocità di 2000 pulsazioni al secondo ma a tutte le pulsazioni aggiunge un catalizzatore che all'istante le getta tecnicamente nel fuoco non è semplicemente un acido tecnicamente è fuoco quindi il coleotero brachinus e il perosophus sono entrambi in grado di lanciare del fuoco io ho delle fotografie in cui essi stordiscono una rana lanciandole del fuoco sì delle creature biologiche possono generare del fuoco possono generare elettricità l'anguilla elettrica riesce a generare così tanta elettricità che se ti avvolge intorno al braccio ti può causare una paralisi permanente con un singolo scontro con un'anguilla elettrica quindi nella natura biologica abbiamo tutte queste possibilità e non dimentichiamo la lucciola l'insetto luminoso la lucciola si inserisce perfettamente nella bellezza del creato e infatti avviciniamoci a questo quadro la lucciola si trova sullo sfondo semplicemente come una lieve incandescenza la lucciola possiede la luciferasi e la luciferina si tratta di due elementi chimici che sono estremamente rari e infatti una quantità di 28,35 grammi ha un costo di circa 3000 dollari ora qualche imprenditore tra il pubblico potrebbe dire andrò a catturare tante lucciole e guadagnerò un po' di soldi no 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 per arrivare a 28 grammi ci vogliono davvero tante lucciole non varrebbe la pena fare tutto quel lavoro lavando piatti potrai guadagnare molti più soldi più velocemente che catturando lucciole ma veniamo a noi la luciferasi e la luciferina sono degli elementi rari si trovano all'interno della lucciola e la lucciola quando deve effettivamente attrarre un compagno invia dei segnali biologici adatti con il suo proprio processo cognitivo spinge con forza questi elementi a un livello più elevato per poi farli ricadere al livello base e quando fa questo vengono emessi dei fotoni e noi vediamo la luce gli esseri viventi hanno la capacità di fare delle cose meravigliose ma vediamo di mettere le cose in chiaro secondo la teoria dell'evoluzionismo noi siamo derivati da un processo naturalistico da un big bang e nel corso del tempo questo big bang ha prodotto quello che conosciamo delle stelle ci sono secondo i calcoli standard 100 miliardi di galassie ognuna contenente 200 miliardi di stelle e gli evoluzionisti hanno stimato che noi abbiamo un'età di 20 miliardi di anni una cosa del genere può essere fattibile andiamo a considerare i dati reali facciamo un po' di calcoli sfattiamo questo mito e mettiamo le cose in chiaro secondo la teoria dell'evoluzionismo un tempo di 20 miliardi di anni ha prodotto per noi 100 miliardi di galassie con 200 miliardi di stelle oppure detto diversamente 225 miliardi di galassie ognuna comprendente oltre mezzo miliardo di stelle ma matematicamente il risultato è lo stesso ebbene vediamo di mettere le cose in chiaro gli astronomi gli astronomi secolari ritengono e tra loro ci sono alcuni eccellenti creazionisti ma il tema dominante dell'astronomia è la cosmologia evoluzionistica e il suo sviluppo nello sviluppo cosmologico gli astronomi stimano che ci siano 100 miliardi di galassie essi stimano che ci siano 200 miliardi di stelle in ogni galassia gli astronomi affermano che l'universo abbia un'età di 20 miliardi di anni ora matematicamente seguitemi un attimo sono 6,3 per 10 alla 17esima secondi adesso facciamo un po' di calcoli 100 miliardi di galassie per 200 miliardi di stelle ognuna sono uguali a 2 per 10 alla 22esima dividendo questo valore per 6,3 per 10 alla 17esima secondi otteniamo 3,1746 per 10 alla quarta oppure osservate questo 31,746 stelle al secondo che dovrebbero essere state formate ora il punto è che noi non abbiamo mai visto formarsi neppure una stella infatti noi abbiamo alcuni matematici e fisici mentre stiamo registrando questo programma abbiamo alcuni matematici e fisici che hanno inserito questi dati all'interno del parametro di tutta la fisica coinvolta in un sistema computerizzato molto potente e lo hanno fatto scorrere per milioni e milioni e milioni di anni e la fisica non ammette la condensazione delle particelle di polvere o dei detriti fino al punto da ottenere almeno una stella embrionale la fisica non funziona la matematica non funziona in 20 miliardi di anni se le cose sono andate esattamente così vediamo di mettere le cose in chiaro si sarebbero dovute formare 31.746 stelle ogni secondo altre 31.746 stelle altre 31.746 stelle e questo nel corso di 20 miliardi di anni eppure nessuno ha mai visto una sola stella che si sia formata adesso c'è un'altra area in cui dobbiamo mettere le cose in chiaro il motivo che mi ha portato a Glen Rose è il fatto che io stavo completando il mio master in archeologia e mi venne assegnato il compito di condurre uno scavo individuale e io scelsi il sito di uno scavo paleo-archeologico che a quel tempo veniva chiamato semplicemente sito paleontologico aveva a che fare con i fossili e non con gli uomini e l'archeologia io scelsi quel sito di Glen Rose e l'obiettivo era quello di selezionare un team per effettuare uno scavo originale rimuovendo un grosso peso e documentando lo scavo di una singola orma di dinosauro che non era stata né osservata né documentata prima così presi degli accordi con il proprietario del terreno della proprietà privata lungo le sponde del fiume Palaxi appena fuori Glen Rose nel Texas spostammo il sovraccarico e per mia soddisfazione scavammo e continuammo a scavare avevamo estratto 19 orme di dinosauro ebbene a quel tempo era abbastanza da record ma io non volevo stabilire un record volevo semplicemente fare un buon lavoro così quando arrivamo al ventesimo io cercai di di fermare gli scavi Charles Altabitle venne da me e mi disse direttore permettici di spostare soltanto un'altra lastra di roccia guardai il mio orologio e dissi ho un aereo da prendere ma va bene d'accordo soltanto un'altra lastra così il team spostò quella lastra di roccia interamente a mano e documentammo la procedura poi mentre stavamo scavando nell'argilla che era sotto la lastra verso un'estremità Charles venne di nuovo da me lui e Ron Jenkins e disse aspetta un attimo c'è una depressione io dissi probabilmente sarà un'altra orma di dinosauro ma ne abbiamo già trovate tantissime no è arrotondata ok così mi avvicinai per vederla era arrotondata allora dissi forza ragazzi spostiamo quest'altra lastra di roccia la spostamo a mano delicatamente poi mentre stavo scavando nell'argilla molto delicatamente utilizzando degli strumenti di legno per rimuovere l'argilla trovai un'orma umana incontaminata di 40 cm con l'arco mediale l'arco laterale l'arco metatarsale l'alluce il secondo il terzo il quarto dito del piede e il mignolo era soltanto un po' grande 40 cm quell'individuo doveva avere una statura di 2 metri 2 metri e 30 e questo mi lasciò senza parole poi ne scavamo altri tre sinistro destro sinistro destro in sequenza e io chiamai la stampa e la stampa lo diffuse in tutto il mondo in ogni modo alcuni teologi liberali e molti attivisti della comunità evoluzionistica lo ridicolizzarono e affermarono questa cosa non è assolutamente possibile gli uomini e i dinosauri non hanno vissuto contemporaneamente e si dissero l'ultimo dinosauro si è estinto 64 milioni di anni fa e la roccia che voi state scavando in realtà è datata 110 milioni di anni e ho appreso in seguito che non era stata datata 110 milioni di anni ma che le era stata assegnata un'età di 110 milioni di anni assegnata un'età come se l'evoluzione fosse avvenuta davvero e l'ultimo dinosauro si è estinto 64 milioni di anni fa l'uomo non è apparso sulla scena fino a circa 2 milioni e mezzo di anni fa nelle forme primitive e nelle forme sofisticate circa 40.000 anni fa con l'uomo sapiens quindi è del tutto impossibile così dissi ok andiamo sul posto e venite a vedere mentre scavo nessuno di loro si fece vedere durante gli scavi ma da quegli anni fino a oggi ho estratto più di 90 orme umane tra 600 orme di dinosauro in scavi originali ma vi ho portato nello studio qualcosa che è assolutamente sbalorditivo questa è una copia l'originale si trova esposto nel paesino di Stinnett nel Texas nel municipio nel piccolo municipio il signore A.M. Coffey alcuni decenni fa estrasse quello originale spostando il sovraccarico ce ne erano nove esemplari ma gli antropologi gli archeologi e i geologi dissero si trova nel posto sbagliato e in una roccia dell'era permiana ebbene la roccia dell'era permiana secondo la teoria dell'evoluzionismo ha un'età che va dai 225 ai 256 milioni di anni fa aspettate un attimo credevo che secondo la teoria dell'evoluzionismo l'uomo non fosse arrivato anche nelle sue forme primitive fino a 2 milioni e mezzo di anni fa ma naturalmente questo non si attiene alla realtà dei fatti qui abbiamo qui abbiamo delle incisioni le fanno sempre stilizzate queste non sono affatto stilizzate questa ha l'alluce che è predominante la pianta del piede l'arco mediale il tallone la sezione del calcagno l'importantissimo rigonfiamento laterale e l'arco laterale lungo la sezione longitudinale lo ripeto notate il rigonfiamento laterale questo si trova soltanto nell'uomo osservate il vostro piede quando è sollevato non si vede questo rigonfiamento ma quando lo pressate sul pavimento o nel fango vedrete questo stesso rigonfiamento la sezione laterale dell'arco longitudinale abbiamo l'alluce il delicato secondo dito il terzo il quarto e il mignolo non c'è alcun dubbio si tratta di un'orma umana noi del Creation Evidence Museum siamo stati i primi assoluti ad avere il gentile consenso e la collaborazione dell'attuale proprietario del fossile originale il nipote di Mr. Coffee che ci ha permesso di tenere l'originale per 90 giorni noi lo abbiamo portato in laboratorio e abbiamo fatto un'attacca a spirale e quello che abbiamo scoperto è stato assolutamente stupefacente ora vediamo di mettere le cose in chiaro senza recare alcun danno di intromissione abbiamo semplicemente fatto un'attacca spirale osservando l'interno e abbiamo scoperto che c'era una leggera compressione del tallone una densità maggiore una maggiore densità in questa zona un trasferimento di densità a questa zona con una densità molto bassa qui e poi un trasferimento di densità verso avanti questo è stupefacente perché mi sposto da questa parte per mostrarvi questa cosa voglio mettere le cose in chiaro e in passato pensavamo che l'uomo camminasse in questo modo piantando il piede a terra come se fosse un bastone esercitando una forte pressione e poi lo stesso con l'altra gamba ma ci sbagliavamo abbiamo scoperto che nel camminare noi in realtà oscilliamo con il bacino vediamo di mettere le cose in chiaro questo ci permette di conservare tantissima energia noi oscilliamo con il bacino esercitiamo un peso davvero lieve sul tallone avanziamo trasferendo il peso verso l'interno e poi quando ci muoviamo verso avanti trasferiamo il peso verso l'esterno e in avanti fino alle dita dei piedi quindi la compressione maggiore nel fango non sarà al tallone come noi pensavamo leggermente sul tallone dalla sezione interna mediale trasferita a quella laterale e in avanti alle dita del piede questo è esattamente mettiamo le cose in chiaro questo è esattamente quello che ci mostra l'originale si tratta di un'orma umana nella roccia alla quale la comunità evoluzionistica ha assegnato un'età dai 225 ai 256 milioni di anni ebbene l'uomo esisteva forse 250 milioni di anni fa no tutte queste età sono state semplicemente assegnate alle rocce non sono delle età che sono state dimostrate in modo accurato sono semplicemente delle date assegnate questa è stata deposta questa fa parte di un sistema adiacente ad un altro sistema adiacente infine al cretaceo su cui stiamo lavorando a Glen Rose tutti saturi di fossili polistrato intrecciati in uno o in un altro punto questo è stato depositato durante il diluvio universale avvenuto ai giorni di Noè meno di 5.000 anni fa mettiamo le cose in chiaro ebbene Gesù fece riferimento al diluvio universale e disse che tutti perirono tutti quelli che si trovavano fuori dall'arca perirono io voglio farti una domanda tu sei entrato nell'arca non sto parlando di una barca fisica lunga 150 metri larga 26 metri alta 16 metri queste sono le misure se teniamo conto del fatto che un cubito non equivaleva a 46 centimetri ma il cubito reale equivaleva a 53 centimetri e queste riteniamo siano le misure reali delle dimensioni dell'arca e non sto parlando di quella struttura fisica di legno con tre piani ma sto parlando della vera arca di salvezza che è Cristo Gesù ti sei rifugiato in Lui Lui vive in te Lui disse colui che viene a me io non lo caccerò fuori vorresti ripetere questa preghiera insieme a me e metterti perfettamente in regola prega con me caro Dio io sono un peccatore io riconosco che Gesù è tuo figlio e che Lui è morto per i miei peccati che è stato sepolto e che è risorto Egli vive io voglio che Lui entri nel mio cuore Signore Gesù in questo momento ti chiedo di entrare nel mio cuore entra nella mia anima coprimi con il tuo sangue perdona i miei peccati e io ti servirò con tutto il mio cuore se tu hai fatto questa semplice preghiera le cose sono state messe in chiaro per te nel cielo e il tuo nome è stato scritto nel libro della vita il libro della vita Grazie.